Da 2011 ad ora a Piemare si è arrivato circa 800.000 persone, ecco come intercettare questi salvati, queste persone che in un modo o in un lato sono state salvate da imbarcazioni sia militari che imbarcazioni degli organismi non governativi, come intercettare, attualmente sono in Italia nei centri di accoglienza 38.000 persone richiedenti asilo, quindi come intercettare questo mondo nuovo che è arrivato in Italia, come intercettare le associazioni di migranti che ci sono in Italia, magari già dei sforzi sono stati fatti, penso che anche noi ci possiamo impegnare in tal senso perché coloro che in un certo senso sono stati aiutati poi aiutino, non si mettono da parte di chi ha posto lui, ha posto tutti, quindi come stimolare e non sollecitare questo mondo di persone recentemente arrivate in Italia. Poi sarebbe vero che dal direttivo ci fosse qualcuno che rappresenti quel mondo dei salvati, tra virgolette, ecco dopo non si può imporre a nessuno però se ci fosse qualche ritrio nel direttivo dell'associazionista che si parla del 3 di ottobre sarebbe interessante. Ecco dico queste cose ma allo stesso tempo sto pensando anch'io come fare a sensibilizzare in tal senso. Allora io, io credo che sia...